I finanziari del Comando Provinciale di Catania hanno sottoposto a sequestro oltre 2.200 dispositivi auricolari e smartwatch verosimilmente contraffatti. In particolare i militari nel corso di specifiche attività a contrasto dell'abusivismo commerciale, della contraffazione a marche e delle violazioni in tema di sicurezza dei prodotti, hanno individuato a Catania un esercizio commerciale gestito da un imprenditore di origine cinese, al cui interno erano esposti per la vendita gadget tecnologici, risultati per fogge e segni distintivi, riproduzioni di prodotti particolarmente richiesti di noti brand come Apple e Samsung. Gli approfondimenti eseguiti hanno consentito di appurare l'assenza di documentazione commerciale comprovante l'acquisto e la provenienza della merce. Inoltre, allo scopo di verificarne la genuinità, gli operanti hanno effettuato rilevi fotografici, parte dei quali sono stati trasmessi per una preliminare valutazione tecnica ad una società incaricata di tutelare il marchio Apple sul territorio nazionale. All'esito della disanimina del materiale fotografico, la società ha comunicato la verosimile violazione del marchio. Alla luce degli elementi acquisiti, nell'attuale stato del procedimento, si è pertanto proceduta al sequestro dei beni, dal valore commerciale stimato di circa 14.000 euro, e alla denuncia il titolare dell'esercizio commerciale alla Procura della Repubblica di Catania per i reati di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione. Il sequestro è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.